C'è il conto che emozione è stata? 30 penne nere qui per noi, non lo so, io sono sempre convinta che vince chi lo desidera di più e noi veramente ci stiamo mettendo tutto, veramente tutto quello che abbiamo, è bello, è un sogno, è incredibile. Hai dovuto fare tutto stasera, cambiare ruolo, ti sei inventato qualsiasi cosa per cercare di portare la vittoria a Cornigliano? Sì perché purtroppo la gara scorsa sono un po' mancata agli ultimi tre set e siccome sono il capitano di questa squadra ed è mia anche la responsabilità di dare entusiasmo perché magari non a livello di punti ma a livello di morale è quello il mio ruolo e quindi questa sera dovevo giocarmi il tutto per tutto perché ci meritiamo la nostra gara 4 in casa nostra e ci meritiamo di continuare a sognare per cucirci sul petto questo scudetto. Anche per la vostra gente che è venuta e ci ha creduto fino alla fine come aveva promesso? Assolutamente, sono tutti pazzi, pazzi, veramente c'è un entusiasmo indescrivibile e è bello perché vuol dire che veramente quello che passa guardandoci è enorme, non è solo pallavolo ma sta passando tutto il lavoro e tutto il cuore che c'è dietro a livello nostro, di società, di Marco, è meraviglioso. Grazie